Un manichino per ricostruire la traiettoria dei colpi esplosi lo scorso 28 novembre da Freddi Pacini, l'imprenditore che sparò ed uccise al ladro che si era introdotto all'interno del suo capannone. Un accertamento che si è svolto all'interno dell'officina di Monte San Savino. Con il manichino, certo, con i vestiti ovviamente della vittima. È durata finora perché ovviamente ci sono state numerose prove. La perizia balistica è stata affidata dalla procura al superesperto Pari De Minervini, presente all'interno dell'officina anche Freddi Pacini, al momento indagato per eccesso di legittima difesa. Da anni l'imprenditore dormiva all'interno del suo capannone, esasperato dai furti subiti. Dopo l'ennesima intrusione, lo scorso novembre aveva esploso cinque colpi contro il ladro Mircea Vitalie, 29enne Moldavo, che quella notte era entrato a colpi di mazza nell'officina. Due proiettili lo raggiunsero, di cui uno fatale all'arteria femorale. Adesso l'ultimo atto della perizia avrebbe confermato la versione di Freddi, dunque spari dall'alto verso il basso. L'imprenditore avrebbe infatti aperto il fuoco dalla finestrella interna del suo palco dove si trovava. Noi abbiamo fin da subito pensato a una legittima difesa a prescindere dalla nuova legge e ritengo che comunque sia ampiamente legittima difesa a prescindere dalla nuova legge. Si potrebbe andare così verso l'archiviazione anche alla luce della nuova legge sulla legittima difesa, ma la perizia comunque deve arrivare a conclusione. Poi Freddi renderà interrogatorio di fronte al PM. Vede l'ora, ovviamente per lui è molto importante rendere le sue dichiarazioni dinanzi al PM. Ovviamente è tranquillo come sta, si sa che la vicenda è particolarmente provante, però va avanti come vedete nella sua attività, cerca di fare quello che può. Vede l'ora, ovviamente per l'ora, ovviamente per l'ora, ovviamente per l'ora.